buonasera bentornati amici di alice sport adesso parliamo di lugagnano calcio lo facciamo con il presidente giovanni forlin salve ciao ciao luca allora partiamo da qui da una foto perché giovanni forlin è se non sbaglio il secondo nella storia del lugagnano per numero di presenze leggiamolo 18 campionati dal 75 al 93 393 presenze quelle che una volta si chiamavano bandiere sì sì beh ma anche adesso sono le bandiere chi chi gioca per tanti anni nella società vuol dire che è legato e quindi crede nel progetto diciamo la realtà del paese penso è un merito vuol dire anche l'attaccamento ai colori sociali della squadra dove io nel paese dove sono nato insomma che per me è stato tutto insomma tant'è che adesso dopo aver attaccato le scarpe al chiodo ecco ho anche l'onore e l'onere di 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 essere presidente del lugagnano insomma con tutto quello che comporta insomma allora quegli anni lì sono stati l'apice a livello sportivo non solo per i risultati però insomma giocavi e fatto tanti anni c'era una squadra forte era erano altri tempi sì diciamo che erano altri tempi allora quando giocavo io si giocava proprio per la passione perché non prendevamo niente non avevamo nessun rimborso magari giovedì si andava a mangiare qualche volta in taverna dall'allenatore da apostoli o per cui diciamo era apponente un altro un altro calcio però insomma il calcio continua e per cui è stata sicuramente un'esperienza importante che io rifarei subito se potessi tornare indietro ma questo non è possibile invece con la delorean andiamo avanti perché adesso arriva tra poco il 2022 sono 90 anni di storia sì nel 2022 sono 90 anni di storia perché il lugagnano è stato fondato nel 1932 e fra nel 2032 saranno 100 anni quindi abbiamo anche in mente di festeggiarli insomma perché insomma 100 anni è un compleanno importante ecco quindi è una cosa che ci fa che ci fa onore fa onore a quelli che hanno fondato il lugagnano e hanno fatto in modo che lugagnano sia arrivato fino al 2021 e speriamo che continui insomma restiamo nella storia recente perché dopo tantissimi anni di eccellenza c'è stato nell'ultimo periodo nell'ultimo decennio almeno una sorta di rifondazione no una specie anche di fusione con il real che cosa è cambiato negli ultimi anni ma allora diciamo che c'è stato noi abbiamo abbiamo raggiunto l'eccellenza con allenatore apostoli c'era presidente dalla rosa che era un imprenditore calzatoriero che ha voglio dire ha fatto moltissimo per il lugagnano poi affiancato da luigi residori un altro imprenditore probabilmente siamo arrivati in eccellenza perché c'era anche più possibilità economica negli ultimi dieci anni chiaramente dalla rosa ha mollato poi è stato diciamo subentrato il figlio ma anche loro hanno un po mollato e di residori non si è più sentito di continuare quindi abbiamo dovuto ridurre quello che era il budget siamo tornati in promozione poi in prima categoria e poi nel 2019 io penso che è importante siamo riusciti a arrivare alla fusione con il real lugagnano che era l'altra società di lugagnano che in realtà era una parte dei vecchi diciamo dirigenti del lugagnano che nel 2004 avevano lasciato il lugagnano avevano fondato un'altra squadra nel 2019 avevano fatto la fusione adesso siamo tornati alla luci di lugagnano ma che serve il lugagnano calcio di una volta insomma quindi voglio dire abbiamo cercato di mettere assieme tutti quante le forze alla volontà chiaramente sempre attenti al bilancio perché voglio dire noi crediamo nella sostenibilità dei conti e soprattutto nel settore giovanile insomma che è quello che magari avremo modo anche di parlare perché penso che per una società il settore giovanile sia la cosa più importante beh parliamone subito perché siete una di quelle società che ha proprio capito la lezione della crisi non serve a nulla avere un vertice se non hai una base solida si guarda io perché tanti dicono del settore giovanile noi quest'anno penso è la abbiamo raggiunto il record sai luca di 300 tesserati cioè non l'abbiamo mai raggiunto cioè quest'anno 300 tra prima squadra settore giovanile scuola calcio 300 tesserati mai arrivati in tutta la storia del lugagnano tra l'altro adesso abbiamo anche un'organizzazione dal punto di vista settore giovanile importante c'è un responsabile della scuola calcio del settore giovanile allenatori preparati per cui ecco e noi le risorse le destiniamo soprattutto sul settore giovanile perché sulla prima squadra che comunque fa la promozione abbiamo ridotto all'osso tutto quanto e quindi ed è questa la nostra politica per cui noi ecco noi speriamo di restare in promozione quest'anno perché l'abbiamo raggiunta l'anno scorso insomma però ecco noi puntiamo tutto sul settore giovanile e speriamo di anche abbiamo sugli uniones regionali abbiamo la i giovanissimi che ha raggiunto la categoria elite speriamo di tornare anche con gli allievi nel nei regionali insomma ecco è un lavoro che parte da qualche anno però insomma ha raggiunto di buoni risultati allora qual è la parte siamo in chiusura la parte più bella e la parte più difficile di fare calcio a lugagnano ma la parte più bella è che adesso siamo dopo la fusione siamo siamo un gruppo abbastanza ampio di persone tutti volontari anche ci mettono anche oltre alla passione anche qualche soldo che si danno da fare quindi e quindi è la parte bella anche vedere allenatori molto bravi preparati che si danno da fare sono disponibili ecco poi ecco la parte bella è vedere i ragazzi che giocano infatti io cerco sempre al sabato la domenica di andare a vedere qualche partita anche del settore giovanile i minori allievi giovanissimi quello che posso ci vado perché è importante poi la parte diciamo negativa è che sai dopo anche con il covid non è facile abbiamo difficoltà economiche ma penso tutte le società però insomma stiamo cercando di superarle ecco diciamo che puoi gestire tutto quanto non è facile però insomma grazie all'aiuto di tutto stiamo andando abbastanza bene quindi io sono contento e speriamo di continuare così insomma chiudiamo con una domanda sorpresa che sicuramente non ti aspetti se io ti dico va pensiero cosa ti viene in mente va pensiero era era la canzone che abbiamo usato io ero un po diciamo quello che iniziava questa questa canzone bellissima nel periodo diciamo per me più importante quando abbiamo vinto il campionato di seconda categoria siamo andati in prima abbiamo vinto il campionato di prima categoria siamo andato in promozione quindi palo dagli anni 178 82 abbiamo fatto due pro siamo arrivati in promozione quando in promozione mi ricordo io avevo giocato a chioggia bassano lo stadio di bassano cioè vuol dire la promozione di allora era ecco quindi mi ricorda un periodo bellissimo l'allenatore giancarlo apostoli tutti i giocatori che hanno giocato con me da raffaele tomelleri a bendinelli dal pozzo insomma tutti a omero benedetti no polacco non ha no polacco era un avversario giusto perché si chiamava omero anche lui eh sì era un avversario comunque è stato un periodo insomma se potessi tornare indietro ma ciò non è possibile e il coro insomma il coro era va pensiero sulla di dorate va tiposa sui clivi sui colli ovelezza nei tepi dei molli lauree dolce del tuo natale insomma la ricordo insomma comunque non la canto perché sono stonato abbiamo fatto veramente anche cultura oggi con il lugagnano calcio grazie e bocca al lupo al lugagnano e a giovanni grazie a te luca grazie mille dai grazie mille